Mielofibrosi. La mielofibrosi abbiamo visto è la terza delle malattie mieloproliferative croniche filadelfia negative e può essere primaria o può essere secondaria. Cosa vuol dire, come abbiamo già sentito, che può nascere come malattia così oppure può venire da un'evoluzione di una precedente malattia mieloproliferativa cronica che può essere sia la policitemia vera che la trombocitemia essenziale. Come facciamo ad arrivare alla diagnosi di mielofibrosi? Abbiamo dei criteri definiti, precisi, definiti dalla comunità scientifica e uguali in tutto il mondo. Non ve li sto ad elencare perché vi annoierei e basta. dico solo che per porre diagnosi di mielofibrosi è essenziale la valutazione midollare, comprensiva della biopsia ossea. Tutte le persone con mielofibrosi hanno le stesse manifestazioni cliniche? Assolutamente no e questo deriva dal fatto che la mielofibrosi è una malattia biologicamente complessa. Abbiamo sentito parlare prima di geni, di molti geni che possono essere alterati e tra tutte e tre queste malattie che abbiamo visto direi che forse la mielofibrosi è quella in cui più geni sono coinvolti e proprio la complessità biologica può tradursi in una eterogeneità delle manifestazioni cliniche. Ma proprio per questo è importante inquadrare in modo completo e corretto una persona che ha una mielofibrosi. Ma come facciamo a inquadrarla in modo corretto e completo? Quali elementi utilizziamo? Partiamo dalla visita medica perché in era digitale direi che è ancora un elemento fondamentale. È una visita medica generale con particolare attenzione a quelle che sono le dimensioni di fegato e di milza perché come abbiamo già sentito la milza è spesso ingrandita nella mielofibrosi e anche il fegato a volte è ingrandito. Secondo elemento che noi utilizziamo per inquadrare correttamente una persona con mielofibrosi è il punto di vista della persona, cioè come si sente, ha dei disturbi, cioè dei sintomi. Spesso noi chiediamo informazioni su questo elenco di dieci quesiti, di dieci variabili, chiamiamole così e questo lo facciamo per cercare di essere il più obiettivi possibile nel definire l'entità dei disturbi che una persona con mielofibrosi ha. Terzo elemento che utilizziamo per inquadrare una mielofibrosi, una persona con una mielofibrosi, sono le indagini di laboratorio in senso ampio. Quindi mi riferisco ai valori dell'emocromo, quindi c'è un'anemia, non c'è, i globuli bianchi sono alti, sono bassi, le piastrine sono alte, sono basse. Dobbiamo poi porre attenzione al fatto che ci siano meno delle cellule immature in circolo nel sangue periferico. Abbiamo già sentito parlare di analisi dei cromosomi, questo lo facciamo su sangue midollare. Se le troviamo alterate non vuol dire che una persona, cioè se troviamo dei cromosomi alterati, non vuol dire che una persona è nato così, ma vuol dire che le alterazioni vengono dalla mielofibrosi. Essenziale è, come ho già detto, la biopsia ossea e in particolare, ma non solo il grado di fibrosi midollare, cioè di cicatrice, la chiamavamo prima, e ulteriore aspetto importante che viene dal laboratorio sono le cosiddette analisi geniche, ne abbiamo già sentito parlare dalla dottoressa Bernardi di questo cosiddetto NGS. E quarto elemento che utilizziamo per inquadramento corretto sono l'aiuto che ci danno gli esami radiologici, in particolare l'ecografia dell'addome normalmente è sufficiente per valutare in modo completo la milza e il fegato, in casi molto più rari ricorriamo all'attacco alla risonanza. Tutti questi elementi che vi ho descritto finora e che troviamo nella colonna a sinistra gialla, vengono direi convogliati, sintetizzati in quelli che sono gli scor prognostici, che vediamo elencati nella colonna verde in mezzo, sono sigle, ma ognuna di queste sigle sintetizza tutti gli aspetti che abbiamo visto finora e ci restituisce un'immagine di una mielofibrosi in quella per determinata persona, mielofibrosi con un basso rischio o una mielofibrosi non a basso rischio, ma a rischio di cosa? A rischio di dare alla persona, in futuro più o meno in là, problemi, problemi di vario tipo, ma problemi che possono tradursi in una influenza addirittura nell'aspettativa di vita. Questi scor prognostici alla fine quindi ci servono per avere un'idea del fatto che una malattia sarà più o meno tranquilla, ci aiutano a scegliere in ogni momento la terapia migliore per ogni singola persona con una mielofibrosi e direi che rappresentano una sorta di alfabeto per un linguaggio comune per gli operatori sanitari. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che una persona con una mielofibrosi per esempio definita a basso rischio che sia questa persona a Brescia, Milano, Roma, Palermo avrà una proposta terapeutica generalmente assolutamente paragonabile, non solo in Italia ma in tutto il mondo a patto che ci sia un sistema sanitario che supporti la scelta migliore in quel momento. Noi ce l'abbiamo, speriamo che continui così. Terapia di una persona con una mielofibrosi non può che essere personalizzata visto l'eterogenità di questa malattia e la terapia deve trovare una sintesi, cioè deve raccogliere le esigenze di quella che è la persona interessata, che vuol dire deve soddisfare le esigenze, le aspettative, la volontà, deve rispettare e deve andare d'accordo con le altre malattie che una persona può avere e deve rispondere a quelle che sono le necessità della mielofibrosi in quel determinato momento. Ho sintetizzato tre quadri clinici che necessitano di terapie molto diverse tra di loro, il primo in verde è quello di persone con mielofibrosi in cui la malattia dà pochi sintomi, la milza è poco ingrandita, normalmente sono persone con una malattia a basso rischio e molte di queste persone non hanno bisogno di nessuna terapia ma solo di controlli, ci sono tra queste persone che hanno bisogno di contenere un aumento dei globuli bianchi e delle piastrine, cioè una malattia che in genere prolifera e il farmaco generalmente utilizzato è l'idrossiura, vecchio farmaco ma sempre un ottimo farmaco, ovviamente se ci sono terapie nell'ambito di studi clinici possono essere utilizzate e proposte. Il secondo quadro clinico è quello relativo a persone con mielofibrosi con sintomi importanti, significativi che impattano sulla vita quotidiana, spesso la milza è ingrandita, le piastrine sono più di 50.000, questo è il gruppo di persone che solitamente hanno malattie non a basso rischio e in cui i farmaci di scelta sono i cosiddetti GEC inibitori e quelli che noi possiamo prescrivere tra questo gruppo di farmaci liberamente al di fuori di studi clinici al giorno d'oggi sono ruxolitinib e fedratinib, sono terapie incompresse, molto ben tollerate in genere, molto efficaci sul controllo e sul miglioramento dei disturbi efficaci nella maggior parte delle persone nella riduzione delle dimensioni della milza. Il terzo quadro clinico è quello di persone in cui la malattia, la mielofibrosi si manifesta con un'anemia significativa e per l'anemia possiamo utilizzare alcuni provvedimenti che sono la terapia steroidea, il danazzolo, in alcuni casi selezionati l'eritropoietina, ovviamente sempre quando ce n'è bisogno la trasfusione di emazze concentrate e terapie nell'ambito di studi clinici se ne abbiamo disponibili. Ovviamente, soprattutto per il primo e il secondo riquadro, le esigenze possono coesistere in una stessa persona, quindi spesso noi abbiamo a che fare con persone che hanno bisogno di assumere terapia ruxolitinib, fedratinib, gec, inibitori, ma anche terapie per l'anemia. Ma detto questo, in qualsiasi momento della storia clinica di una persona con mielofibrosi che abbia un'età diciamo al di sotto o intorno ai 70 anni, noi che ci occupiamo di queste persone dobbiamo porci il problema se in quel momento la situazione clinica necessita di un pensiero, di una considerazione riguardo al trapianto di midollo e a questo proposito poi ci illuminerà il dottor Polverelli. Il futuro della mielofibrosi sarà sicuramente un futuro in cui avremo molti farmaci a disposizione, alcuni sono già utilizzabili con studi clinici, altri arriveranno liberamente prescrivibili a breve, altri sono in studio, ma quello che ci tengo a dire è che il futuro della terapia di persone con mielofibrosi sarà quello di associazioni di terapie, questo perché agiremo su più bersagli cercando di essere più efficaci. Una persona che ha una mielofibrosi come deve fare i controlli? Dipende, dipende, dipende dalla persona, dipende dalle caratteristiche della mielofibrosi, dipende dalla terapia, quindi la frequenza degli esami, delle visite, dei controlli radiologici va personalizzata. La valutazione midollare che è diciamo tassativa nel momento della diagnosi non viene rutinariamente ripetuto durante la storia clinica a meno che ci sia una necessità di chiarire qualche particolare aspetto o sia indispensabile per indirizzare la terapia. Sono indicate le vaccinazioni in persone con mielofibrosi? Assolutamente sì, questo perché la mielofibrosi è una malattia che di per sé predispone ad avere più infezioni rispetto a una persona che non ha una mielofibrosi e spesso queste infezioni hanno un decorso più impegnativo. Quindi assolutamente indicata la vaccinazione covid e anti-influenzale, assolutamente indicata la vaccinazione anti-herpes zoster, soprattutto per chi fa terapia con GEC inibitori e caldamente consigliata la vaccinazione anti-pneumococco.